There's no place I'd rather be E' a tutti ragazzi, io sono Simitoli, siamo insieme Oggi ragazzi siamo qui per fare una parodia molto carina Oggi ragazzi siamo qui per fare la parodia di... Di un ragazzino abbastanza strano che ha le idee confuse Quindi senza perdere il suo tempo ragazzi Raggiungiamo i 1500 like per questo video E iniziamo! A tuuutti ragazzi, io sono ToSixyFree E oggi siamo una nuova introduzione che non è un'introduzione Ah che bello! Un'altra introduzione, sì Sè Ah zì, manco te sai quello che stai a dire Non è un'introduzione questa introduzione Questa diciamo è una prova Per testare la tua stupidità Adesso mi trovo nella mia scuola Sì, io non sapevo che la tua scuola è stata costruita sotto terra Poi forse sono strana io Spero non si noti Sicuramente si nota Ah ma intendeva quell'edificio che sembra un manicomio Sto facendo un video su youtube Sto facendo un video su youtube, non mi rompi i coglioni Ok ok, tranquillo Tranquillo, me ne vado Me ne vado Ecco ragazzi, questo è il solito rompi i coglioni Ragazzi abbiamo qui davanti a noi un esemplare di rompi i coglioni E ragazzi Questo come vi ho appena detto è un video introduzione Senza introduzione C'è qualcosa che non cosa Sì No Più non lo ripeto più diventa strano No zì, più lo ripeti più diventi strano te E questo vi spiegherò soltanto che Che? Io non so fare i tagli, ecco Allora, a dire, è semplicissimo Prendi delle forbici, un foglio, fai così Questo è quello che dovete Giro, giro, tondo, gira il mondo Per sapere che io non so fare i tagli Cioè allora ti sei puntato nel cervello, fai così Tagli Bravo Lo mando su YouTube, beh, questo video Eh, ma che mi spiega Eh, allora è in tecno Anzi, come fa il traccio se c'ha manco le chiavi? Ciao Ciao Sì, i soliti coglionus inculetos Ragazzi, adesso abbiamo anche l'esemplare dei coglionus inculetos Che hai detto? Coglionus inculetos Au No, no, tranquillo, papà, scoppi, ricordato a capire la battuta, eh E dai No, lo metti davvero su YouTube No, no, è vero, ho visto i video Anche io Eh, ragazzi Questo video in realtà era una cazzata varia Non sapevo che cosa fare Zio, non c'è bisogno che me lo dici, lo sapevo già Le introduzioni erano finite Basta dire la parola introduzioni Non ce la faccio più Tutte nel cervello ce le ho sti introduzioni Saluta Ciao Il solito coglionus minchionus Ma tu che sei un ozologo, no? Perché conosci tutte le specie Scopri tutte le specie Eh, ragazzi Un saluto da Torch63 E noi ci vediamo in un prossimo video di introduzioni No, un altro di introduzione, no Ti prego Ti prego Ti prego, ti prego Non lo fare Ti prego O in una prossima cazzatina varia Che le farò molto spesso Ste cazzatine E ci le diciau Ma sta outro Io già l'ho sentita Non so voi Beh ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se ci sia già E mi lasciato un like Per un prossimo video Seguiti su tutti i miei social Trovate qui sotto nella descrizione Iscrivetevi al canale Mi raccomando Se siete iscritti Iscrivetevi Un'altra volta Così ancora più Belli Poi ragazzi Niente Commentate qui sotto Con un'altra parodia da fare Molto molto ma molto parodiosa E niente Grazie a tutti Ciao 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 Ciao